Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene, ho deciso di fare questo tutorial infrasettimanale, per mostrarvi, come si crea un cesso, in Minecraft, andando in giro per i vari server, trovo solo dei buchi, dove la gente ci caga dentro. Queste buche, possono diventare delle trappole mortali, per i poveri, e innocenti, animaletti. Inoltre, fanno pure schifo esteticamente. Guardate un esempio di latrina vietcong, la 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 la, la 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 che bello passeggiare. Ma cos'è? Ma sgus, latrina vietcong, ma che cazzo, ehi ma, c'è un pollo dentro. Ciao pollo, cazzo ci fai, in mezzo al piscio e alla merda? Capobastone, sono caduto qui dentro, da chissà quanto tempo. Non voglio più mangiare merda, ti prego, uccidimi. Ah, ok. Avete visto che fine orribile, è? Per evitare, quindi, che costruiate stronzate del genere, oggi vi illustrerò, come creare un bellissimo cesso. Attenzione, warning. Non voglio sentire bimbi minchia o frocetti, dire frasi tipo, Catabastana, hai capiata un tutorial, di un'altra utenta, oppure, Catabastana, quel cessa la conosca, è mia sorella, ho semplicemente preso ispirazione, da un cesso visto su un server, e l'ho modificato, per renderlo ancora più merdoso. Il risultato, è epico, sto usando la texture Pec, Misa, perché con i blocchi di lapis lazuli, offre questo mosaico in stile bagno, che si abbina molto bene, al progetto che andremo a costruire. Il pavimento, dovrà essere formato da una serie di lastre, proprio cusci, altrimenti il cesso sarà troppo alto. Una volta fatto il buco, ci posizioniamo il calderone, e dietro di esso, una redstone lamp. Vedete? Inizia a prendere forma, fatto ciò, prendiamo un secchio pieno d'acqua, e con il tasto destro del mouse, riempiamo la tazza. Adesso vi faccio vedere. Una volta fatto, prendiamo la bottola, e posizioniamola sopra il calderone, ora tocca al pulsante di scarico. Useremo un comune bottone in pietra. Visto che figata, è, ed ora, è con tutorial su come cagare. Alzate la tavoletta, piegatevi, appoggiando le natiche, sul freddo acciaio del water, e rilassate i muscoli rettali. Una volta finito di defecare, e di lanciare scorreggia in stile mitragliatrice, premete il pulsante di pietra, ed i problemi spariranno. Guardate che figata, ho un cesso, in stile Hollywood. Te dirai, capobastone, ma il culo non te lo pulisci. Ho pensato anche a quello. Ecco a voi, lo spara carta igienica. Costruirlo è semplicissimo, posizionate un dispenser nel muro, e applicate un bottone di pietra a fianco. Cosa metterci al suo interno? Beh, vedete voi, la scelta è tra la carta, ed il cactus. Se scegliete il cactus, saranno cactus amari, per il vostro culo. Complimenti merdoni, avete creato un cesso sicuro per gli animali, ed esteticamente bello. Potete aggiungerci un sacco di cose, ad esempio, un circuito in pietra rossa, una serie di pistoni, delle luci, dinamiti che esplodono sotto al culo degli ignari caganti, eccetera eccetera. Questo tutorial, sarà il primo di una serie, che ho in mente di fare, durante la settimana, in aggiunta al video del venerdì. Quando avrò tempo, ovviamente. Ora vi saluto, perché sto lavorando pure all'altro video, il capobastone, non si ferma mai. Ciao a tutti merdoni, a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.